Loredana Lecciso Loredana Lecciso, tapiro d'oro, ecco cosa dice su Albano e Romina Power Loredana Lecciso riceve il tapiro d'oro per il tira e molla delle ultime settimane con Albano Carrisi, la consegna in onda nella puntata di Striscia la notizia di lunedì 29 gennaio su Canale 5 Loredana Lecciso, non ho gradito molto il cuore di Romina Power A Valerio Staffelli, che l'ha intercettata negli studi Mediaset di Cologno Monzese, Mi, dopo l'intervista a Domenica Live, l'Alecciso ha detto, chi vivrà vedrà E a proposito di Romina Power e Albano insieme ai mercatini natalizi di Hamburgo, ha affermato, insomma, non ho gradito molto Quel cuore è, ricordando il dolce a forma di cuore con la scritta in tedesco Ti amo che la Power ha mostrato ai fotografi Loredana Lecciso, Albano? Gli voglio molto bene E, quando Staffelli ha detto alla Lecciso si vede che è innamorata e che non lo vuole lasciare, lei ha risposto, voglio molto bene ad Albano Loredana Lecciso cosa aveva detto a Domenica Live L'Alecciso, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, ascolti record in quel momento, aveva dichiarato, in realtà nessuno ha lasciato nessuno, ma c'è stato effettivamente un allontanamento legato anche a situazioni poco gradite a me È come se fosse un momento interlocutorio e negli ultimi tempi qualche incursione involontaria è arrivata Centrano le provocazioni di Romina? In realtà sì Alcune volte il confine tra l'ironia e il buon gusto è labile Non ho gradito affatto alcune sue esternazioni, alcune cose poi arrivano e fanno male Sarebbe ipocrita e stupido se dicessi il contrario Albano? Io sono ancora innamorata di lui e credo ancora nel nostro progetto. Insieme abbiamo costruito una famiglia e mi dispiace passare per la terza incomoda Sono 18 anni che condivido la mia vita con lui Quando tornerò a Cellino? Presto, appena sarà possibile Per ora è ancora a Pavia Per ora è ancora a Pavia